Luciano Di Nicola è il presidente di SGT Sport che quest'anno sta davvero portando alla luce tantissime novità. Sì, diciamo che ci sono delle belle novità per quanto concerne appunto il mondo sportivo perché quest'anno ci vogliamo cimentare in due nuove discipline, quella del rugby e quella del calcio a cinque. Tutte e due le discipline saranno e verranno fatte principalmente e soprattutto per i bambini dai 6 ai 15-16 anni. E poi questa conferenza stampa in un luogo davvero bello, più volte lo abbiamo detto come questa zona di San Buceto sia un fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo. E' una conferenza anche per presentare appuntamenti di tennis immediati, in particolare i campionati regionali assoluti che sono il top del movimento di alto livello del tennis abruzzese. Sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto la conferma ad organizzare i campionati assoluti regionali e quindi diciamo partiamo domenica e ospiteremo qui i campionati regionali assoluti di tennis per il secondo anno consecutivo e pensiamo che avrà molto successo sia dal punto di vista di risposta degli atleti ma soprattutto dal punto di vista organizzativo perché comunque l'evento è abbastanza importante a livello regionale. Un altro evento è quello delle finali TPRA che si svolgeranno sabato e domenica sempre nei nostri impianti e che pensiamo di organizzare e di onorare al meglio e come siamo abituati a fare.